Un investimento io direi epocale perché parliamo a livello regionale di quasi un miliardo di euro. Nella nostra provincia teniamo conto che oltre 200 milioni di euro, a partire intanto dall'ospedale di Pesaro, 150 milioni di euro. Dividiamo quindi due fonti di finanziamento, quelli derivanti dall'edilizia ospedaliere e quelli derivanti dal PNRR Sanità. L'edilizia ospedaliera, come dicevo, 150 milioni di euro per l'ospedale di Pesaro, interventi importanti sull'ospedale di Urbino, di Fano, strutture importantissime per il nostro territorio. Nel PNRR Sanità sono state ricomprese spese importantissime per il nostro territorio che riguardano case di comunità e ospedali di comunità. Ospedali di comunità, interventi sulla struttura di Galantara, Pesaro, sull'ospedale Bombaroccio, ospedale di comunità Cagli e tante altre strutture nel territorio. Elementi fondamentali che fanno propendere veramente per un cambio di passo, per una idea diversa di sanità, da una sanità accentrata tutta su un'unica struttura ospedaliera a una sanità policentrica e territoriale. Ecco, infatti diciamo che si abbinano le due cose, novità e potenziamento di quello che forse era stato depotenziato in questi anni. Esattamente, è proprio un elemento fondamentale di novità, di potenziare le strutture che sono state depotenziate e di intervenire territorialmente affinché tutti i cittadini all'interno del nostro territorio abbiano paregnità. Sono stati fatti anche un intervento, ad esempio, che vorrei ricordare è importantissimo, l'ospis pediatrico per le cure palliative Fano, che è una struttura fondamentale. Quindi faccio i complimenti anche all'associazione Maruzza che ci ha creduto in tutti questi anni in ordine a questo progetto che non vedo chi possa mai essere contrario a una struttura del genere, che dà dignità a questi bambini in situazioni di difficoltà e creerà sicuramente un hub importantissimo all'interno non solo della Regione Marche ma del centro Italia che potrà sicuramente creare anche una mobilità attiva verso il nostro territorio.